Vuoi risparmiare 30 euro acquistando questo decoder? Attualmente è in sconto su Amazon per un errore di prezzo. DigiQuest Decoder TV SAT è la soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere dell'altissima qualità satellitare. È anche un media player ed è corredato di un telecomando 2 in 1 che permette di poter controllare anche le principali funzioni della TV. Tessera TV SAT inclusa. Nei commenti trovi il link Amazon all'offerta. Se vuoi scoprire i prossimi errori di prezzo su Amazon, ricordati di iscriverti al canale.